siamo nell'estate del 2003 uno dei momenti più difficili della sua carriera i problemi con la moglie il rapporto davvero difficile con phil jackson lo stesso con shaquille o'neill le accuse di violenza sessuale hanno portato kobe a doversi creare un alter ego continuando la sua scalata per diventare uno dei migliori di sempre tutto questo ha dato origine al black mamba il black mamba uno dei rettili più pericolosi della terra un serpente con un carattere forte mortale al suo morso e che rispecchiava perfettamente quello che avrebbe dovuto fare kobe per riuscire a tornare in campo con la mentalità giusta fuori dal campo era solo kobe ma una volta messa quella casacca sarebbe dovuto diventare come quell'animale da lui molto rispettato ora tutti sappiamo cosa è successo quel giorno del 26 gennaio 2020 quel periodo storico dove si parlava del coronavirus come qualcosa di lontano e solo come una semplice influenza che stava contagiando alcune persone in cina quando gli dissero che kobe avrebbe dovuto avere un figlio baschio per portare avanti la sua dinastia cestistica lui rispose ho gianna per questo ora a più di tre anni di distanza da quella fatidica data nike ha voluto commemorare kobe e sua figlia gianna con una scarpa davvero speciale mamba sita proprio il soprannome di gianna quando scendeva in campo con quella casacca numero due questa scarpa uscita il primo maggio esattamente 17 giorni fa da quando pubblico questo video e sarebbe per il 17esimo compleanno di gg ovvero gianna bryant una scarpa che va ben oltre a quello che potrebbe essere un valore di reselle ed un semplice guadagno economico un significato davvero importante che davvero in pochissimi oggetti riusciamo a trovare quotidianamente questa è la kobe mamba sita protro 4 dedicata a gg il design di questa scarpa richiamano la divisa della sua squadra di basket giovanile la stampa visci intorno al tallone è un omaggio alle camicie che spesso indossava hanno dato in vita lo svuscio rosso sulla suola è ispirato al nastro rosso che gg portava nei capelli per le foto scolastiche dettagli personali come il nome sul tallone e sulle punte dei lazzi ti ricordano di dare sempre il massimo con convinzione e coraggio queste le parole spese da nike nella descrizione di questa scarpa al momento del suo lancio ora però andiamo a dare un'analisi dettagliata proprio con le scarpe in mano e spero di avervi dato almeno un decimo di quanto penso sia speciale questa scarpa con le parole su questo video perché questo modello potrebbe diventare tranquillamente uno dei classici grail ovvero delle scarpe molto ambite e soprattutto uniche nel loro genere facciamo un passo indietro però adesso la scatola ovviamente intitolata mamba sita proprio per il soprannome di zanna quando scendeva in campo le ali dell'angelo con l'aureola e il numero 2 ovvero della sua casacca due swoosh in colore oro e poi la classica etichetta dove abbiamo la nostra taglia e poi la colorway e altri dettagli tecnici aprendo la scatola troviamo il logo di cobi le ali e il 2 e l'aureola ripetuti con il titolo mamba sita carto ovviamente anche in questo caso in color oro che contiene all'interno queste due fantastiche scarpe la sneaker presenta una qualità davvero pazzesca dei materiali per tutta la tomaia con questa pelle di buonissima qualità oltre ai classici lacci e nelle estremità troviamo appunto il nome gg abbiamo anche due set extra uno nero puntinato di bianco e l'altro total white oltre alla leather che dà struttura a questa scarpa lo swoosh lo troviamo fatto in quello che a mio parere mi sembra del classico tessuto la soletta ovviamente con il classico stampo in visci presenta il cuore ed anche il simbolo di questa scarpa dettagli sul tallone con il numero 2 non possono assolutamente mancare ed ovviamente il nome gg nella parte esterna delle scarpe notiamo ovviamente la firma di cobi e questa è una delle poche scarpe che nike ha voluto curare nei minimi dettagli lo stock venerdì 5 maggio in europa è stato di 1890 paia quindi sono state super limitate e direi anche giustamente proprio perché questa non è la classica scarpa da resell che troviamo praticamente ogni settimana sono super contento di essere riuscito a portarvela come al solito vi ricordo di lasciarmi un bel like iscrivervi al canale e questo è un mio piccolissimo ed un mille omaggio a quella che è stata la carriera cestistica di cobi e soprattutto quella che sarebbe potuta diventare la carriera di gianno vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine vi ricordo che qui potete trovare lo scorso episodio di caffè hype invece qui la recensione delle jordan one low olive in collaborazione con travis scott buona giornata a tutti